In questo breve video provo a farmi truffare, ovvero seguo le indicazioni che ho ricevuto guarda caso casualmente tramite un contatto privato. Innanzitutto ragazzi ci tengo a precisare, voi non fatelo mai, anche se io sto facendo questa prova in questo video, voi per carità non fatelo. Quando ricevete messaggi del genere non accedete ai siti, non cliccate ai link che trovate nei messaggi, perché potrebbero essere link scam, link phishing, accedendo a questo portale il mio antivirus mi ha segnalato varie cose, io mi assumo i rischi, ma voi per piacere non fatelo. Come potete vedere dalla schermata, questo è un messaggio che mi è arrivato tramite Whatsapp, ma questi messaggi arrivano anche via email, arrivano anche via Telegram e cosa vogliono rappresentare. Questo utente fa finta di sbagliare ad inviare un messaggio facendoci credere per l'appunto che quel messaggio poteva essere ricevuto da un suo amico e invece casualmente ha sbagliato ad inviarlo e ci ha dato i dati di un account per andare a recuperare, a trasferire, a impadronirci di questi fondi che apparentemente non sono nostri. Quindi noi ingolositi da questa ingente somma accediamo a questo portale e vediamo cosa succede. Allora prima di tutto quando ricevete messaggi del genere, come ho detto, non cliccate sui link, non accedete a quei portali perché è palesemente una truffa. Poi si è andata anche a vedere l'url, link di accesso usdtxnz.com. Anche qui l'url suona molto strano come indirizzo di un exchange, quindi anche questo è un campanello d'allarme. Subito dopo cosa possiamo fare? Possiamo andare a controllare per quanto ci è possibile le informazioni riguardanti a questo portale e notiamo che è stato registrato tramite questo sito gname.com dove è possibile acquistare per un periodo di tempo un dominio e creare un portale. ha la data di creazione 17-12-2023 con data di scadenza 17-12-2024 quindi hanno pagato il classico anno di dominio e vediamo che è stato registrato a Taiwan. E anche qui le informazioni che abbiamo ricevuto anche solo vedendo che il dominio è stato appena creato e ha una durata di un anno un exchange mi sembra strano anche fosse una piattaforma di qualsiasi tipo non fraudolenta che tenga il dominio attivo per un anno. sì che mi direte può sempre rinnovarlo però è un campanello d'allarme. Successivamente vediamo, andiamo sul sito, facciamo finta di essere ignari, vediamo questo exchange, è un exchange che chi bastica nel settore capisce a prima vista, ho detto chi bastica nel settore magari non chi si sta avvicinando per la prima volta al settore, capisce che è un exchange spoglio, è un home page creata ad hoc perché non dice nulla di quello che deve mostrare realmente un exchange. Andando in fondo non abbiamo dati aziendali, non abbiamo le classiche domande e risposte, non abbiamo i link sulla sicurezza, sulle norme in utilizzo, sui rischi nell'utilizzo dell'exchange, insomma se andiamo a vedere un attimo Binance, vedete già le impostazioni che sono completamente diverse rispetto all'alte exchange e vedete anche tutti i link per trovare le informazioni possibili, i canali social, sui prodotti e servizi che sta offrendo un exchange, compreso anche la partita IVA e la compliance. In questo caso non abbiamo nulla di ciò, ma supponendo di non far caso a tutte queste informazioni, basta cliccare su qualsiasi di questo banner che non porta da nessuna parte e se vedete anche i per delle criptovalute sono pochissimi, quindi ok può essere un exchange appena nato, ma così poche criptovalute listate al suo interno è veramente veramente misero, anche questo è un campanello d'allarme, soprattutto se ci clicchiamo sopra non c'è nessun link, quindi noi volessimo andare a mercato a fare un acquisto, non si può effettivamente acquistare nulla. Possiamo solo andare su my account, mettere i dati che abbiamo trovato nel messaggio, si apre questo account dove vedete il mio fondo in USDT, fondo ovviamente inesistente, VIP5 e quest'utente DAI88 che non sono io. E come vedete potete fare una ricarica, ma tanto il link non funzionano, potete provare a fare il prelievo e anche simulando il prelievo che cosa succede? C'è una password per effettuare la transazione, questo ovviamente è voluto, perché noi andando a inserire una qualsiasi password, anche la password che abbiamo trovato nel messaggio, nell'email, ci darà un errore, quindi noi siamo portati, tanto è l'unica cosa che si può fare, ad andare a contattare l'assistenza dicendo di recuperare la nostra password. Tra le altre cose, vedete anche se andate su assistenza tecnica, abbiamo proprio un indirizzo email di una persona, un indirizzo email che non ha neanche tra postenso di esistere, USDT tab 001, chiuso la gmail.com, quindi l'utente cosa fa? E' portato a mandare un email dicendo di resettare la password. In quel caso, che cosa succede? Vengono inviate tutte le informazioni per effettuare un problema, per effettuare il prelievo, ma è lì che di nuovo capita la classica scam. Ci viene detto che per motivi di compliance, per poter prelevare quella somma, bisogna ricaricare l'account con una percentuale in base a quanto vogliamo prelevare. In quel caso, il malcapitato, restando sempre ingollosito dalla cifra che potrebbe prelevare versus la cifra che va a depositare per il prelievo di questa finta tassa verso i suoi fondi, i fondi vengono immediatamente trasferiti altrove, l'account viene bloccato e tanti saluti. Ed ecco che si conclude la scam, la truffa finale, senza in questo caso che il sito sia effettivamente malevolo o contenente phishing virus o qualsiasi altra cosa. La truffa si conclude con la solita richiesta di un pagamento di una fee finta o viene messa come fee del network oppure viene messa come fee di compliance. In entrambi i casi è una truffa. Oppure, ancora più geniali, tra virgolette, vedete che si può fare un trasferimento interno. In alcuni casi rispondono all'email con la scusa che la passo non si può resettare che personale, vi viene consigliato di aggiungere di creare un nuovo account da zero e trasferire poi i fondi da questo account che vi è stato regalato al nuovo account. L'unica cosa che poi per poter prelevare la cifra vi può venire detto non come fee di pagamento ma per poter prelevare la cifra sul nuovo account, visto che quello che ci hanno regalato è un VIP5, dobbiamo anche sul nuovo account creato realmente da noi arrivare al VIP5, andando ovviamente a depositare una quantità di cripto valuta in quantità di bitcoin per poter accedere al VIP5. In quel caso poi si conclude, esattamente come vi ho spiegato prima, i nostri fondi che depositiamo per essere VIP5 vengono prelevati da loro e tanti saluti, a noi viene bloccato l'account e in quel caso abbiamo perso i bitcoin e i USDT che abbiamo depositato per diventare VIP5 e poter prelevare quella finta somma. Ed ecco infatti l'ultimo episodio che ho appena descritto mi viene proprio scritto nell'email dell'assistenza che ho contattato qualche giorno fa. E così si concluderebbe la truffa verso il mio account. Ciao!